Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi continuiamo a parlare del nuovo Direct Drive lanciato da Logitech qualche giorno fa. Devo dire la verità, ho lasciato un qualche giorno maturare questo ultimo video in cui, diciamo, era quasi provocatorio il fatto di fare un raggiamento su quali erano le possibili decisioni prese a livello delle leve di marketing, di pubblicità, di lancio di questo prodotto fatto da Logitech. Infatti dico Logitech seriamente oppure una mossa di mercato che potrebbe avere un suo perché. Devo dire la verità, avete fatto nei vostri commenti una disamina che è praticamente quasi all'unanimità la stessa, nel senso che ci sono pochi che sono alquanto d'accordo con quello che potrebbe essere la mia teoria, quindi non è che penso che sia questo, teoricamente penso a quello che potrebbe fare Logitech, non è che sono io che non condivido questa mossa di Logitech. Come lo siete voi d'accordo sul fatto che sarebbe stato un bel lancio tutto il bundle a 700, 800, 900 euro al massimo, lo penso anch'io, perché penso che proprio quello che dall'immaginario collettivo che si ha e della conoscenza del marco su quelli che sono i prodotti che Logitech propone, ragazzi, siamo abituati a una marca Jeep, il G900X, quello che non è un top di gamma sul quale si lanciano persone professioniste, stiamo parlando di un prodotto di massa e quindi di conseguenza un prezzo per un bundle di 1500 euro fa accapponare la pelle, anche se abbiamo l'abitudine, ragazzi, di avere dei pregiudizi senza testare, nel senso che non sappiamo la bontà del prodotto, ragazzi, né della pedaliera né del volante della base. Ci basiamo unicamente su quelli che sono i dati tecnici che ci sono forniti, ci sono pochi gli italiani che hanno avuto la fortuna, tra virgolette, di testarlo, parlo di Blink46 che l'ha testata, ho visto il video, però non parla proprio, cioè non fa una disamina completa, non va a spolpare quello che è il volante, dice che è un buon volante, ecco questo, che parla che è il top di gamma ovviamente della casa Logitech per quanto riguarda le periferiche di guida. Poi si sofferma anche sulla pedaliera rapidamente e poi su quella che è la postazione che gli viene data per. Quindi non c'è un qualcosa ancora di veramente completo a livello di recensione che non sia una marchetta, perché gli inglesi hanno fatto tutti i marchetti, ragazzi, cioè è una cosa incredibile. Quindi siamo tutti d'accordo sul prezzo, qualcuno mette in discussione anche il fatto che ad oggi, nel 2022, la gente comunque guarda internet, un minimo si informa, che il canale di distribuzione, anche se il centro commerciale con il venditore che spinge dietro, consigliando un direct drive perché non si torna indietro, una nuova tecnologia proprietaria di Logitech True Force applicata a un direct drive, deve essere un qualcosa di mostruoso, che questo è superiore perché c'ha 11 newton metri, eccetera, eccetera, in cui non siete tanto convinti perché anche con una finanziaria le persone non vanno a spendere tutti questi soldi. Io ho un po' di dubbio, ce l'ho ragazzi per X ragioni, perché comunque spendere 500 euro per una Playstation, oppure c'è gente che spende ragazzi per una 3090 oltre 2500 euro, e con le 4090 oltre i 2900 euro, quando una volta le schede video si compravano a 300 euro, per giocare, per giocare. Ragazzi, spendete soldi per giocare. Quanto vi è costato il vostro PC? Anche se l'ho comprato online, oggi una 3090, quanto la comprate? Vabbè, questo è un altro discorso. Quindi ecco perché con molti di voi sono d'accordo, ma allo stesso tempo faccio un ragionamento diverso. Perché? Perché devo uscire, e dovremmo uscire tutti dal nostro quadro di visione. Noi siamo abituati a trattare con la simulazione di guida, quindi siamo degli esperti, volendo o non volendo, siamo degli esperti, almeno nel mercato, non sto dicendo che siamo tutti i piloti di Formula 1, però almeno conosciamo, conosciamo il mercato, conosciamo il valore effettivo di quello che è il materiale che ci viene proposto, da un'esperienza che può essere diretta o indiretta, diretta se l'ho provato o indiretta, perché magari c'è un amico fidato che mi dice guarda che è una merda, oppure guarda che è il top di gamma. E quante volte siamo rimasti sorpresi anche dal fatto che alcune opinioni non erano assolutamente in linea con quello che realmente il prodotto ti dà. In positivo o in negativo? Quante volte a me è successo ragazzi? Il DD1 è una bomba! E poi alla fine ti viene a rendere conto che in realtà la Fanatec non riesce a gestire con i propri filtri veramente quel motore che è stratosfericamente troppo veloce. Giusto un esempio ragazzi. All'inizio wow wow e poi alla fine mi sono reso conto, ma sulla mia pelle. Quindi oggi non riesco a dare un giudizio solo da quello che sono i valori tecnici che ci offre oggi Logitech. Bisogna provarlo il prodotto. Rimane sempre secondo me anche un prezzo elevato come tutti voi mi dite. Poi c'è qualcuno che mi dice e lo ringrazio perché è importante avere queste informazioni negli Stati Uniti ci sono dei magazzini fisici cioè dei negozi fisici dove vendono i direct drive. Quindi questa è per me l'eccezione che conferma la regola perché che io sappia in Europa almeno che non ci siano qualche showroom non ci sono dei negozi fisici. Io in Italia, in Francia ho vissuto parecchio non ce ne sono e la Francia l'ho fatta tutta quindi posso dirlo. Quindi sono comunque Logitech rimane con un'immensa possibilità di vendere in questi canali di distribuzione quali centri commerciali oltre che online basata su un qualcosa che non abbiamo al quale non abbiamo anche riflettuto penso ragazzi il fatto che hanno una potenza di braining è pazzesca ok? Vi faccio un esempio pratico se io vi dico Coca-Cola o Cola Fizz cosa comprate? Coca-Cola ragazzi senza prenderci in giro prendete la Coca-Cola Cola Fizz non la prende nessuno che non la conosce nessuno non se la caga nessuno tra Logitech e Fanatech che se prendiamo le persone la massa Logitech la conoscono tutti Fanatech non la conosce nessuno o pochi voi la conoscete voi che seguite il mondo della simulazione voi che conoscete il valore assoluto di Fanatech rispetto a Logitech che parliamoci chiaro Fanatech ha veramente tutto questo livello ragazzi i DT Pro hanno un sacco di problemi sono saturi a livello dell'assistenza diciamo le cose io ho avuto a che fare parlo con esperienza non è che mi sto inventando delle cose senza contare tutte le lame intere io il forum di Fanatech l'ho bazzicato e l'ho bazzico ancora perché io ho una base csv2.5 quindi devo aggiornare eccetera e vedo io non vi dico quindi parliamo io prendo Fanatech non così facilmente ragazzi comunque torniamo sull'argomento principe chi è che conosce Fanatech? pochi quindi Logitech rimane con questo branding fatto negli anni e come dice Andrea se non sbaglio che dice io conosco Logitech la riconosco solo perché fa mouse io sono d'accordo con te tu la conosci perché per te fa solo mouse sono d'accordo anche se la mia 4k qui è in Logitech quindi la conosciamo perché hanno fatto ripeto pubblicità di branding ed è presente in tutte le case Logitech e Trustmaster fa la stessa cosa è un marchio conosciuto quindi una persona che guarda che vede Fanatech che non la conosce magari non la tiene in considerazione magari è troppo sofisticato per loro Logitech via poi c'è un altro ragionamento da fare ragazzi ma una cosa con chi si fa il paragone del prezzo del bundle oggi Logitech vi propone un direct drive con possibilità sicuramente di cambiare corona perché c'è il quick release come lo fa Fanatech attenzione compatibili PlayStation e Xbox d'accordo chi è che che gli fa concorrenza Simcube 2 no perché non è compatibile PlayStation e Xbox quindi non è da tenere in considerazione ok perché c'è quella bisogna prendere quelle aziende che possono coprire tutta la fetta di mercato ok se facciamo un ragionamento marketing ok auguri no chi Fanatech solo Fanatech chi ci sono gli altri non ce ne sono gli altri io sono o che fanno solo pedaliero o che fanno solo basi Simagic eh no Simagic non posso tenerlo in considerazione mi dà un baldeon completo però non lo posso usare per PlayStation e Xbox quindi non lo posso tenere in considerazione Fanatech e cosa mi offre di più Fanatech la qualità di assistenza mi offre una CSL pedaliera plasticosa con una cella di carico molto semplice a delastomeri da 90 kg d'accordo e mi offre un DD così d'accordo con la possibilità di intercambiare ovviamente con un quick release un volante tutto di rispetto da 8 Nm qui ne abbiamo uno da 11 con le stesse caratteristiche a livello di cambio di corona eccetera sapendo che le corone Fanatech costano quanto costano ragazzi parliamo io ti do un bundle base poi se vuoi cambiare corona ok quindi quello che vi voglio dire ragazzi è che l'unico che in questo momento può contrastare stiamo parlando del 30 settembre 2022 l'unico che può contrastare Logitech in questo momento è Fanatech un marchio meno conosciuto molto meno conosciuto che Logitech ragazzi ve lo dico perché la popolarità si misura in massa non in pochi eletti come noi che siamo esperti del mercato della simulazione quindi l'unico concorrente con un buon bundle diciamo rispetto al prezzo che offre è Fanatech allora mi direte eh ma sono 500 euro di differenza eh ma lo devi sapere però la differenza è questo il problema che vi dico ragazzi io sono d'accordo con voi le finanziare sì no eccetera posso anche essere d'accordo che oggi uno si informa su internet tutto quello che volete tutto quello che volete ragazzi anche se noi dobbiamo uscire fuori dal nostro quadro di visione ragazzi perché noi conosciamo il mercato conosciamo come funziona se ti arriva una famiglia facoltosa e non gliene frega niente di spendere mille euro perché non siamo tutti io ad esempio mille euro per un volante così devo risparmiare dieci anni c'è gente che non si fa problemi ragazzi e che si fida del marchio Logitech perché lo conosce da quando è bambino punto è così con il venditore che gli spinge al culo compra compra perché è buono ragazzi volete un altro esempio quando andate a comprare la lavatrice fate il giro di internet e ne uscite comunque sapientoni sapete solo le funzioni che hai in più e basta ragazzi dai siamo sinceri è vero o no è vero o no poi avete ragione su tutta la linea non è che vi do torto però secondo me il ragionamento che fa Logitech ha una certa Logitech quindi e poi come lo dite voi abbasseranno i prezzi ragazzi e stop bundle si troverà a meno questo è un prezzo di lancio come giustamente qualcuno di voi lo dice è un prezzo di lancio poi calerà come è successo per i 900 e quando il 22 novembre ringrazio la persona che ha segnalato questa data uscirà Trustmaster con il suo direct drive e spero a questo punto con un bel bundle Logitech farà calare i prezzi oppure calerà l'asso di mazze con nuovo bundle di volanti con cioè sarà una guerra pazzesca poi pre natale ragazzi fantastico quindi ragazzi su questi miei ragionamenti per spingere ancora di più l'analisi di questa mossa commerciale marketing che diventa anche logorroica però è bello discutere queste cose qua fatevi sapere cosa ne pensate nei commenti siate numerosi come lo siete stati in quest'ultimo video io vi ringrazio veramente tantissimo per la vostra partecipazione vi invito calorosamente ad iscrivervi al canale a lasciare un pollice su se questo mio ragionamento vi è piaciuto come al solito da Fabrizio è tutto un abbraccio ci vediamo prestissimo ciao